Una coppia di coniugi si trovano sul letto matrimoniale, ognuno di loro che chattava col proprio cellulare. Ad un certo punto il marito si rivolge alla moglie e le dice Cara, cara, sì caro, dimmi, cara, ma lo sapevi che è a Rio de Janeiro e la moglie dà al marito 10 euro ogni volta che il marito la soddisfa? Allora risponde la moglie, sì caro, ma tu come sopravviveresti con 10 euro l'anno? Grazie a tutti